No, lei invece ha tre figli, Geronimo, Lorenzo, Cocis e Leonardo Apache, come appunto la tribù indiana. È nota questa cosa. Che padre è lei? Eh, cerco di recuperare con la qualità la mancanza di quantità, però sono un padre, posso dire, attento. Senta, ma se suo figlio venisse da lei a dirle che ha capito di essere omosessuale, non le chiedo come reagirebbe, ma che cosa proverebbe? Beh, dico la verità, accetterei con dispiacere la notizia. Se vuole che sia sincero, ma l'accetterei, perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Però se poi non mi assomiglia, pazienza. È come se il mio figlio fosse milanista. Cioè il dispiacere perché? Perché non le assomiglia o peraltro? Perché non mi assomiglia, perché ha scelto una strada diversa da mia, le ho fatto un paragone preciso. Lei ha detto, cambiando discorso, i conti col passato li facemmo a fiuggi. A noi fanno sempre le analisi del sangue, in Fratelli d'Italia non c'è spazio per i nostalgici. Ora, non parlando degli altri, ma parlando solo di lei. Lei è stato spesso accusato di avere, come dire, degli atteggiamenti in alcuni episodi equivoci. Lei si rimprovera qualcosa? Mi rimprovero per esempio di Buonafede avere mostrato a una troupe televisiva, che sapevo che l'avrebbe reso pubblico, era il Corriere della Sera, che in casa c'era il famoso busto di mio padre. Perché gli dissi, è di mio padre, che faccio, lo tengo, e le do una notizia. Scoop, lo vuole mia sorella. Ha detto che si è rotta, non ce le ha, ma si dice, le scatole, di sentire parlare del busto di una cosa alta così. Lo vuole lei. Chi l'ha detto che papà l'ha lasciato a te? L'ha lasciato a noi, quindi lo voglio io, glielo ho dato. A noi l'ha detto uno, certo. Sì, a noi, ha detto così. Vabbè, però per esempio, durante... Quindi non ce l'ho più, questo è lo scopo. Ce l'ha mia sorella. Vabbè, è pieno di cimeli a casa. No, 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 non è bello. C'ha solo quello? Non ci sono... Crest del Duce. È diventato... Un crest. Ma il crest ne ho mille. Eh. C'è una pari che lei ha visto in quella... C'è un crest, fra l'altro me ne ho manca accorto quando l'ho visto in televisione. C'è un crest che mi hanno dato, evidentemente storico. No, ma ecco, allora le cito altri episodi, avrei citato altri episodi. Per esempio, lei ha detto che l'ha scritto un collaboratore che poi l'ha cancellato un post durante il periodo del Covid, ha detto contro il contagio, saluto romano, oppure per dire ha sdrammatizzato... No, non l'ho scritto io, veramente, quello. Se l'avessi scritto l'avrei mantenuto. Oppure per dire lei ha sdrammatizzato il gesto di suo fratello fatto durante un funerale... No, lasci stare, quello è ovvio, ve lo sdrammatizzato. Lei vuole capire il mio rapporto col fascismo, in parole povere. No, no, io le sto chiedendo, no, sul rapporto col fascismo lei l'ha detto e spiegato mille volte. Se, secondo lei, certe volte, almeno nell'approccio, ha usato un po' di leggerezza? Ma può darsi, considerato che il mondo su questo è privo di una vera capacità di separare le cose importanti dalle cose dette con un altro senso, ci devo stare più attento, purtroppo, o per fortuna. Eh, infatti, perché purtroppo era andato bene, poi ha detto di purtroppo. No, perché sarebbe bello poter fare le battute senza bisogno di... No, però è una ferita talmente storica, talmente, no, ancora aperta. Questa politica ricorretta, io l'odio, guarda. Eh, per conto è politicamente corretto, però... No, politica ricorretta è una cosa... Un periodo storico talmente drammatico che non è politicamente corretto. Ma non è vero, perché non si possa... È oltre. Io ho visto su cose storiche, ma beh, siamo aperti. Tra poco lei per la prima volta vivrà da Presidente del Senato il 25 aprile. Lei propose un po' di tempo fa di trasformare il 25 aprile in un giorno di ricordo delle vittime di tutte le guerre, comprese quelle del coronavirus. È sempre di questa idea? No, guardi, non voglio più parlare del 25 aprile perché è un terreno scivoloso. Qualunque cosa... Ma non dovrebbe essere, no? Qualunque cosa io dica sul 25 aprile. Se invece mi dici se lo intendo celebrare, l'ho già fatto. No, no, ma io non... Quindi lo rifarei. Ma questa non era la domanda. Qual era la domanda? Ma la domanda era, siccome lei fece una proposta, no, di trasformare il 25 aprile... Ma sei sicuro che l'ho fatta in questi termini? È il giorno del ricordo delle vittime di tutte le guerre, comprese quelle del coronavirus. Quando l'ho fatta? Non mi ricordo bene. Era il 2020. Può darsi, guardi, sinceramente... Va beh, non è più a cambiare idea. Non me la ricordo nemmeno. Ma non ho cambiato idea perché non mi ricordo veramente di avere fatto questa... Va bene. ...in questi termini. Credo che siano cose diverse, quelli che vanno ricordati, che sono i caduti del Covid e dai caduti del 25 aprile. Oh, perfetto. Senza entrare nel merito della vicenda cospito, sui documenti di limitata divulgazione o meno, io le chiedo solo a lei che è avvocato, no? Se si sarebbe comportato come del Mastro e Donzelli oppure no, oppure gli rimproverà qualcosa. Lei è avvocato, quindi, insomma... Guarda, visto quello che ne è derivato, beh, se non l'avesse fatto probabilmente si sarebbe incentrata la discussione in maniera chiara sulla visita dei parlamentari del PD a Cospito e ad altri. Così, invece, è stata spostata sulle dichiarazioni. Per cui abbiamo guardato il dito, non la luna, non il dito, non il dito, non il dito, non il dito, non è stato utile. Ha fatto bene la Montaruli, la sottosegretaria all'università, a dimettersi? Ha fatto un gesto che non si aspettava chi voleva strumentalizzare la vicenda. E ha fatto bene, secondo lei? E quindi credo che abbia fatto bene e al mio applauso. Senta, con Forza Italia, dalla formazione del governo, un po' i rapporti sono complessi, no? Voi aspettavate un po' il pericolo che arrivasse da Salvini, invece è arrivato da Berlusconi. No, non ci aspettavamo. Vi aspettavate proprio da Berlusconi. Se tra i due ci aspettavamo più da Forza Italia. Perché? Perché Forza Italia viene dall'essere il partito egemone. E quindi sapevamo che digerire una leadership importante come quella di Giorgia, al femminile oltretutto, eccetera, eccetera, sarebbe stato più ostico per Forza Italia che per Matteo che di fatti in questi primi 120-130 giorni semmai ha cresciuto la sintonia con Giorgia. Però le ho detto una cosa prima, guardi che Berlusconi ha maturato un convincimento molto bello nei confronti di Giorgia. Non tutti quelli di Forza Italia, abbiamo parlato di Mules, Mules si chiama? Mules se lo ricorda benissimo, Mule, ma se lo ricorda. Lei fa ancora parte dei consiglieri stretti di Giorgia Meloni? Delle persone di cui lei si fida di più? Credo di sì, ci vediamo meno, ci sentiamo meno, ma dal punto di vista concettuale non è cambiato nulla, insomma. Senti, a questo programma io chiedo sempre una belvata, cioè un'azione da belva che lei o rivendica, perché l'ha divertita, perché la rivendica, o di cui si pente. Pente pare niente, però me la dice una bella belvata. Una belvata che ho fatto è stato quando la mia amica Ronzulli, con cui le assicuro adesso siamo in discreta sintonia, per non dire in buona, aveva cercato di occupare la sedia che io avevo voluto restasse volutamente, simbolicamente vuota, dedicata, riservata a Giorgia Meloni, e lei con nonchalance, forse io almeno così l'avevo letta, per non far vedere simbolicamente che era vuota, si era seduta lì. E l'ho cacciata da quella sedia, con modi non proprio urbani, quindi quella è una belvata. Ha fatto bene a dire che i rapporti sono discreti.